Il street, quella roba lì, c'è il jelly drive, non mi ricordo bene il nome E dovevo fare sulla fermata, avete presente il palo che c'è? Dovevo schiacciarmi e far arrivare il pullman più velocemente questo All'inizio aveva arrivato l'altro, poi dovevo schiacciare ed è arrivato questo E ho preso il controllo del pullman che la signora è là dietro se non sbaglio Dobbiamo percorrere questa rotta Ok, iniziamo Siamo in America, adesso siamo in America, adesso si può andare anche con il rosso Non è che è per dire che... non voglio insultare nessuno, voglio solo dire che è una legge che in America c'è e anche su questo gioco Siamo in America, adesso siamo in America, adesso siamo in America Allà, vediamo Sì, ha detto di essere un po' di più ma che vita di schifosa eh, me neither the new e-busses are so quiet oh, or my hearing aid oh hmm, hmm hey, where are you going? in teoria non dovrei comprare un nuovo pullman ci abbiamo 103.000 euro ma non mi compro un caspiterino no, ci hanno assegnato questo io lo voglio ci li ho i soldi? credo di no non vabbè scappo io mannaggia non posso averlo vabbè dai allora devo devo rifare una cosa devo tornare qua devo chiedere un pullman devo com'è che si fa da sognare eh ecco ecco perché città oggi però ah sì, è un tuo città sì ma io infatti me lo guido io questo diciamo che è un po' la migliore guida ora che figo che figo mi han dato il citato poi vedo se compone quello lì che volevo poi da che la Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. No, 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 sto qua ancora qua. No, vai, 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 vai. No, vai, 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 vai. No, vai, 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 vai. No, vai, 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 vai. No, 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 no no perché non si possono dare craniati a tutti levati perché usi il sedile prossima volta che sto cosa si siede un'altra parte non lo faccio più guida per morire ma io non li vedo i dossi qua perché in sta città non ci sono io non me li ricordo dove ne prese almeno uno oh 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 cance oh 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 Direi universi, è solo una simulazione. Grazie a tutti. Raga, perché non mi dice che io l'ho dato a un'altra persona? No, è vero. Um... Sì. 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 Andate qua. Andate sulle linee. La rotta, quella che vi interessa, credo che io ho fatto su questa. Andate qua. Qua. E assegnate. No, scusate. Qua in alto. E assegnate. Qua in alto. E assegnate. dai chiediamo questo qua cosa inchiodi? e che a fine amostrata poi concludo il video no grazie Allora, perché non sono scesi? Vabbè, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, è bello a tutti, ciao!